Gentili telespettatori, buona giornata. Fabrizio Corona a Milano in tribunale per aver diffamato Giorgia Meloni attribuendole legami affettivi con il deputato Messina. Tra i testimoni c'è la stessa premier Giorgia Meloni. Nel 2023 l'ex agente fotografico avrebbe creato questa notizia falsa di un legame tra la premier Giorgia Meloni e un deputato di Fratelli d'Italia, anche con fotografie alterate, quindi fotografie taroccate, dei fotomontaggi. La procura ha disposto la citazione diretta a giudizio per diffamazione aggravata. Processo a gennaio Meloni tra i testimoni. Così la procura della Repubblica di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e di un altro imputato per un articolo che compare nell'ottobre del 2023 sul sito dillingernews.it nel quale Corona svolge il ruolo di caporedattore di fatto. Articolo in cui si parlava di un fantomatico legame affettivo tra la premier Giorgia Meloni e il deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina. Il processo arriva dopo che la Meloni ha fatto un esposto, ha fatto una denuncia con parte civile con l'avvocato Luca Libra e di Messina anche lui parte civile con il legale Mattia Serpotta. Inizierà come si legge nel decreto firmato dal procuratore Marcello Viola e dall'aggiunta Manella Letizia dal PM Tarsia Giovanni. Il 21 gennaio davanti all'ottava sezione penale di Milano. Oltre a Corona difeso dall'avvocato Ivano Chiesa e imputato anche Luca Arnau difeso dal legale Alessio Pomponi sarebbe stato proprio l'ex re dei paparazzi secondo i PM a procacciare la falsa notizia con verifiche da cui ne emerge l'assoluta infondatezza e avrebbe poi ordinato insistentemente la sollecita redazione dell'articolo anche con fotografie alterate. Era stato Arnau infine a scriverlo e pubblicarlo il 20 ottobre dello scorso anno. Tra i testimoni del processo indicati da IPM nel decreto c'è anche la stessa premier parte civile. Beh è incredibile insomma questo Maurizio Corona sembrerebbe incorreggibile addirittura procacciarsi una notizia falsa per non lo so per far notizia per vendere pubblicità per essere al centro dell'attenzione però quando poi costruisci delle notizie false alla fine più che guadagnarci soldi ce ne perdi soprattutto con gli avvocati intanto poi lui con il suo curriculum questa cosa va aggiungersi insomma continuare a far parlare di sé con i processi non è propriamente il massimo della vita insomma capisco che lui era tanto tempo fa al centro dell'attenzione però poi si è visto come operava cosa faceva ecco a questo punto vi parlo anche per esempio di un altro caso che finisce in tribunale il caso boccia dove signorini porta in tribunale i gossip del fatto quotidiano il direttore di chico e re la travaglio dice mai ricevuto favori dal ministro e così poi la boccia si difende su la sette quindi un terzo attore entra nella nella scena nel caso san giuliano boccia alfonso signorini il direttore della rivista chico e re la marco travaglio dopo l'articolo sulle foto comprate e mai pubblicate tra l'influencer chiamiamola così è l'ex ministro il fatto quotidiano ricostruisce l'episodio signorini avrebbe comprato le foto senza pubblicarle di boccia e san giuliano perché il giornale di travaglio allude a favori che l'ex ministro avrebbe fatto per sdebitarsi in particolare si fa riferimento all'incarico ricevuto da signorini per la regia di boem all'arena di verona signorini smentisce annuncia una querela dice ricostruzione fantasiosa contraria alla realtà e diffamatoria sia sulle circostanze dell'affidamento della regia della rappresentazione della boem avvenute nell'arena di verona nel 2024 sia in relazione alla ricostruzione del processo e del percorso artistico quale regista con grave omissione dell'indicazione delle numerose regie eccetera eccetera quindi se voi vedete spesso si parla di notizie inventate di fatti inventati che poi finiscono alla fine sempre in tribunale insomma quando si parla di qualcosa bisognerebbe essere certi di quello che si dice o se lo dice qualcun altro dire guarda io dico questa cosa ma l'ho letta su quel giornale la scritta quel giornalista quel giorno a tal ora il titolo dell'articolo di giornale è questo quindi per difendersi proprio dalla diffamazione bisogna sempre dire dove si è presa una notizia se no poi dicono che l'hai tirata fuori tu e spesso molti giornali tirano fuori delle cose che sono completamente completamente inventate quindi abbiamo visto signorini che porta il fatto di travaglio in tribunale la meloni che porta corona in tribunale e tutte e due sembrerebbero delle notizie false o comunque delle notizie che non hanno delle basi cioè che magari si dice che ma non c'è una una reale consistenza della notizia non è che non è verificata non ci sono le prove quindi magari sono quel si dice che ma non ci sono le prove io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti ricordatevi che c'è poi anche tele italia seconda rete dove trovate video di politica notizie fai da te e poi questi video sono caricati sulla pagina di facebook che si chiama luca vincitore dove li potete poi è condividere sulle vostre pagine se vi sono interessati grazie a tutti e arrivederci a presto